La prima volta erano andato a portare aiuti umanitari, dal lì a un mese e mezzo sono arruolato nella UPD. Ogni battaglia, non mi importa chi sono o cosa dicono, eravamo tutti fuori da qualcosa, eravamo fuori da me stesso. Mi prendo circa 40 minuti e mi ucciso un uomo. Mi ucciso il mio primo soldato Isis. Abbiamo conquistato uno dei villaggi qui vicino. Quando non parli la lingua, non capisci la cultura, è estremamente difficile, non per tutti. Sì, eravamo scocchiati. Sì, cosa faccio un uomo qui da Svedia? Mi rispetto i kurdi più che il mio militare. L'ISIS si esplirà qui con le bomba di suicidio e altre cose. Perché perdere la battaglia, è più facile per loro cercare qualcosa qui. Non so se vale la pena morire per queste cose. Sicuramente vale la pena rischiare la vita per queste cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti.